Concede ai tuoi fedeli, oh Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, semprevergine di Casandrino. Salvaci dai mali della vita presente e donaci il caldo del bene eterno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Un attimo. Un attimo. Prendete i falsoretti se qualcuno ce l'ha. Appena si alza il rosario è tutto. Adesso, fratelli e sorelle, le nostre preghiere salgono al cielo, rappresentate da questa corona del rosario. Sventoliamo i falsoretti e a un solo grido diciamo, evviva il nostro Signore di Casandrino. Un solo grido. 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 Che bello del Rosario, vedete il nostro diritto, tutti ci dobbiamo attaccare a quel Rosario.